Veloce e combattuta, primo tempo equilibrato, le due azioni migliori a cavallo della mezz'ora. Per l'Albino Leffe un contropiede libera sulla destra Bonazzi, sul suo tiro la deviazione in angolo di Pinzang. La Triestina risponde con uno scambio quasi speculare, da Rigoni per Moscardelli la conclusione in questo caso è alta. Nella ripresa ancora Triestina, due brividi per il portiere bergamansco Acerbis, prima la conclusione di Aquilani e poco dopo il pallonetto di Moscardelli. Al primo affondo però l'Albino Leffe sfiora il bersaglio, il sinistro di Carobbio da fuori area supera Pinzang ma è respinto dal palo. La svolta poco prima della mezz'ora, Godeas va in profondità dentro l'area e viene steso, rigore per la Triestina dice l'arbitro Romeo e Rigoni lo realizza. La reazione ospite è contenuta, gli alabardati raddoppiano, bel lancio di Godeas, Moscardelli controlla e sforna un pallonetto di qualità. Non è finita ancora Triestina nel recupero per un fallo di mano, secondo rigore sul dischetto, questa volta va Godeas che segna il 3-0.